L'amore si manifesta in tantissime sfaccettature, posizioni, situazioni, insomma l'amore di una donna per una donna, l'amore di un uomo per un altro uomo Non è vero che sono invadente? No, non sei invadente Non è vero che sono invadente? Non alzare la voce Sì, è sempre rispettato la tua privacy Se per te privacy è entrare nella mia mail e scrivere a Marco al posto mio Dico che però bisogna lavorarci su perché l'amore è un fuoco che va sistemato, va attizzato Se tu mi parlassi dei tuoi amici, se me li presentassi, se quando andiamo a trastevere io non mi sentissi un estraneo Ma piantala, mi stai sempre con l'infiatto sul collo Se devo chiederti il permesso anche per pisciare, io, mi scusi, ma a sto punto mi mettevo direttamente con una donna, no? Dico bene, dottore Quanto? Con tutte le coppie invece ci siamo divertiti di andare a trovare delle fobie comuni nei rapporti di coppie e a portarle fuori È stato veramente molto divertente La musica è in modo Mi serve Grazie Puttana Invidiosa Troia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti